E' ritenuto responsabile di cinque furti e dunque è un plurirrapinatore secondo la polizia che lo ha arrestato e portato al carcere di Gela. Lui è un uomo di 21 anni, è gelese, si chiama Piero Francesco Frazzitta, è un pregiudicato ritenuto responsabile dei reati di rapina, lesioni personali e cinque episodi di furto. E' ritenuto responsabile appunto di episodi di furto che sono avvenuti da agosto a ottobre ai danni di alcuni esercizi commerciali gelesi, tra i quali anche un episodio nel quale ha spinto una signora su uno scaffale perché gli impediva il passaggio e la fuoriuscita dal luogo dove aveva commesso il furto. E poi ci sono i bar della stazione, ci sono alcuni esercizi alimentari, alcune rapine fatte appunto nel bar, uno zaino, un portafoglio, insomma numerose vicende che la polizia ha messo insieme. Anche perché a Gela si era creato uno stato di allarme sociale, allarme sociale su cui sono in corso ancora ulteriori indagini, perché la frequenza dei furti e delle rapine è stata, come sottolinea il commissariato di Gela, inquietante. L'uomo, come si diceva, è stato arrestato e condotto al carcere di Gela.